Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti. Turbativa d'asta. Confermati gli arresti domiciliari alla sovrintendente archeologica Adele Campanelli coinvolta nell'inchiesta sugli appalti pilotati condotta dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli. La scorsa estate alla Campanelli fu concessa la cittadinanza onoraria di Mirabella Eclano con motivazioni non convincenti e per di più con il voto contrario del Consiglio Comunale. Nemmeno alla luce della decisione del GIP sindaco e giunta ritengono di revocare il titolo onorifico? Sbaglierebbero di grosso. Qualcuno potrebbe pensare infatti che quella cittadinanza onoraria fu concessa soltanto, diciamo così, per simpatia. Grazie a tutti.